Questo praticamente è un pergolaro completamente divorato dalle orate. Orate fameliche spadroneggiano nel Golfo della Spezia, razziando, per il momento impunite, negli allevamenti dei mitili con notevoli danni economici per gli operatori del settore. Quest'anno ci hanno mangiato circa il 70% della produzione, una produzione di 30.000 quintali praticamente andata quasi tutta in fumo. Tra le cause individuate per la presenza dei pesci c'è il riscaldamento dell'acqua, ma anche il fatto che sono animali opportunisti. Loro hanno trovato cibo a disposizione, che sono i nostri impianti di allevamento di mitili e ostriche, acque tranquille, quindi chi glielo fa fare di andare via. Per il momento non ci sono contromisure, ma si sta studiando come limitare i danni. Da un lato dobbiamo capire queste orate, come si comportano e soprattutto da dove arrivano. Quindi l'influenza dei cambiamenti climatici e se ci sono anche delle emissioni di pesce da altre fonti. In secondo luogo pescarle sicuramente e cercare delle nuove misure di contenimento per comunque continuare a fare questa attività. Le cozze della Spezia, i muscoli, come li chiamano qui, sono di qualità, come testato dalle orate stesse, e saranno parte del banchetto del settantesimo raduno nazionale dei bersaglieri che si terrà alla Spezia dal 22 al 28 maggio.